Una maglietta alle tue spalle, Palassio 2016, notizia ufficiale, Rodrigo, fino al 2016 con l'Inter. Complimenti anzitutto, grazie. E cosa vuoi dire tu invece? No, niente, sono molto contento, felicissimo per questo rinnovo e niente, darò il massimo per questa maglia, come ho fatto sempre, fino adesso. Un legame importante, questa continuità, possiamo dire che te la sei guadagnata con tanti gol e tante grandi partite. Sì, non lo so se sei guadagnata, però ho sempre dato il massimo per fare bene all'Inter, io sono molto contento qua in questa società, per me è un sogno rinnovare ancora un altro anno e niente, darò il massimo. Ci sono dediche particolari per questo giorno, ringraziamenti particolari che vuoi fare? No, ringrazio alla società, ai tifosi, a tutti, perché il primo giorno che è arrivato qua mi hanno accolto molto bene, anche i compagni, allora sono felicissimo. Tu sai che il tifoso, dice, Palassio ci fa un bel regalo perché rimane il nostro centravanti ancora per tanti anni, domani c'è una partita contro il Verona, cosa può chiederti il tifoso secondo te per domani, per esempio? Un gol e la vittoria, speriamo, speriamo di fare una grande gara, sicuramente è una gara difficile perché loro giocano molto bene, sono una squadra che sta facendo bene, noi facciamo il nostro lavoro e dobbiamo vincere per continuare così. Fammi questo gesto, così ha firmato Rodrigo Palassio il prolungamento fino al 2016. Vai Rodri! Grazie.